Rosetto degli Abruzzi al Voto, comune di 25.487 abitanti della provincia di Teramo, affacciato sul mare Adriatico e compreso tra le foci dei fiumi Vomano e Tordino, è uno dei maggiori comuni della costa teramana e dopo il capoluogo è il più popoloso nella sua provincia di appartenenza. Nell'ultimo decennio Rosetto è stata interessata da un notevole incremento demografico, grazie allo sviluppo di alcune zone residenziali affacciate sull'Adriatico. A presentarsi come candidati sono il sindaco uscente Ennio Pavone, con Futuro In, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Popolari per Roseto, Forza Italia, Destra Sociale e Pavone Sindaco, Rosaria Ciancaglione con Un'altra idea di Roseto, Roseto Progressista, Roseto nel Cuore, Abruzzo Civico, Roseta Unita e Roseto Futura, Sabatino di Girolamo per il PD e le liste di Girolamo Sindaco e Roseto Protagonista.